Ho acquistato Pokémon X in seconda mano. Scopriamo insieme il salvataggio del vecchio proprietario. Apriamolo. Il Pokédex completo 719. E tempo di gioco 395 ore, sangue! Vediamo un po'. Box 1. C'è qualche leggendario, ma niente di che. Ma che, tutto vuoto. 25 ditto, di 25 nature diverse. Tipico assetto da breeding. Ottimo. Sicuramente riferito agli IV. Eccellente, quindi sì. Evzare. Raga, ma qua c'è un sacco di roba a Shiny. Questi tutti schiusi a Kalos. Uh, Lugia Shiny. Se ci sta scritto, ok, questi saranno pronti per il competitivo. Aegislash Shiny, che figo. Latios Shiny. Latias Shiny. Ma quanti leggendari ci stanno là sotto? Tutte e tre Shiny. Madonna. Pure Articuno. Mewtwo. Oh, oh. Giratina. Pure Raikwaza. Ma che salvataggio è? Seguimi per i prossimi contenuti.